E anche la quarta giornata del Castellabate Film Festival è volta al termine, all'insegna delle consuete attività per bambini, partite alle 9 con yoga e conclusisi alle 18 con animazione 35 MHz. La prima attività ha visto provare nuove posizioni da parte dei fanciulli, partendo da quella della montagna, per poi passare a quella dell'ostrica, della tartaruga e del guerriero, e per concludersi infine con la meditazione e con la lettura di una favoletta. In occasione dello storytelling i bambini hanno realizzato un disegno, partendo da un segno tracciato sul foglio, e hanno cominciato a ingolare su un grande cartellone i moltiplici disegni fatti in questi giorni, e ad unirli in fascicoli per creare una sorta di libro. Nel pomeriggio il tutto è proseguito dalle 15, con i corsi di magia in cui l'oggetto a sparire per questa volta è stata una bacchetta. Durante il corso animazione 35 MHz ci sono state due attività svolte da due gruppi con le rispettive animatrici. Il tema è stato quello della giungla e l'obiettivo quello di realizzare mascherine e trasformarle in animali proprio della giungla. Prossimo appuntamento oggi venerdì 23 luglio con le conspette attività e il talk show The Way of Cinema alle 19.